Due di lettura i geni ereditati dall'uomo antidonetto Neandertal hanno svolto un ruolo significativo nel determinare il massacro a causa del covid-19 che ha segnato la Val Seriana nell'area di Bergamo con migliaia vittime. Uno studio del Mario Negri Institute conferma le precedenti indagini sulle cause dell'elevato tasso di mortalità registrato in quelle aree attribuendo un peso decisivo precisamente alla predisposizione genetica della popolazione. Un importante passo avanti nelle conoscenze scientifiche sul virus SARS-CoV-2 arriva durante la preparazione per la nuova campagna di vaccinazione con vaccini aggiornati che saranno offerti gratuitamente a tutti coloro vogliono fare. L'amministrazione. Dall'origine studio. Pubblicato sulla rivista eScience. È chiaro che una certa regione del genoma umano è stata associata in modo significativo al rischio stancarmi più e ammalarsi in forma grave nelle aree delle aree della zona Bergamo colpito dalla pandemia durante la prima ondata. Conferma di uno studio precedente predisposizione genetica i risultati della ricerca. Commentato il presidente della regione lombarda Attilio Fontana. Dai una risposta a una delle domande che chiunque di noi ha posto perché un po' di contratto il virus in modo asintomatico e altri in gravi modulo?